Grazie Presidente. Mi chiedo se coloro i quali invocano la soluzione del più Europa per risolvere i nostri problemi ci credano veramente o lo facciano solamente perché non vogliono ammettere il fallimento di questo criminale progetto. La Brexit è la prova provata del fallimento e la sfiducia verso l'UE monta in tutti i paesi, compreso il mio, dove solo un cittadino su tre crede nell'Unione Europea. La moneta unica, l'euro, è stato il progetto criminale che ha definitivamente affossato i popoli europei ed invece di parlare di smantellamento dell'Unione Economica e Monetaria oggi proponiamo addirittura un bilancio per l'eurozona che sancirà l'istituzionalizzazione distruttiva della Troica. Con la Brexit l'UE e l'euro sono diventati morti che camminano. Facciamocene una ragione e ripartiamo a costruire un'Europa diversa dall'UE fatta di stati sovranamente indipendenti. Grazie. Onorevole Zanni, c'è una domanda per lei. L'accetta? Onorevole Iaconsari, prego la sua domanda. Ma insomma, sul fatto che l'Unione Europea abbia portato la pace in Europa sono un po' in disaccordo. Io credo che la pace in Europa l'abbiano portata le basi militari degli Stati Uniti e i missili puntati verso Mosca, non certo l'Unione Europea. Per quanto riguarda la disaffezione o meno dei cittadini europei verso l'Unione, anche qui non sono d'accordo. Basta vedere dieci anni fa, cinque anni fa, il supporto che in Europa i cittadini europei davano all'Unione Europea, che era alto, è quello che è oggi. Come le dicevo nel mio Paese, oggi un cittadino su tre solo, quindi meno della metà, supporta l'Unione Europea. Sono i dati di statistica, una statistica che è uscita di recente. E la prova provata saranno le elezioni in grandi Paesi europei che avremo nei prossimi mesi, dove i partiti euroscettici guadagneranno grandi percentuali. Forse non vinceranno a questo giro, ma se le cose continueranno così, con l'euro che porterà povertà, recessione economica e distruzione, vinceranno al prossimo giro. Grazie. Grazie.